musica come here from scotland you speak english you speak english Ok, parliamo in italiano che è meglio, non lo capisco io. Allora, mi presento, sono uno scozzese, si vede, si nota. Lei è il mio assistant, assistant tira pugni. Lei è Bunny Gabby, Bunny Gabby, Gabby Bambi. Ciao Bunny, saluta. Allora, adesso facciamo una magia, ok? Ok? Si chiama la magia dell'uccello che vola. Allora, un attimo, allora, concentrazione, la magia, concentrazione. Ma, il capello, non mi piace. Allora, il mio tre, urlate, uccello vola, ok? Dai, allora, ok? Ok, poi, dimmi, ok? Sì! Prego! Dai! Uno, due, tre! Uccello vola! Uccello vola! Uccello! 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 L'abbiamo detto di fare prima! Ma allora, abbiamo capito che voi non siete mali! Esatto! Uccello! Uccello! come li fanno bene? bene facciamogli vedere una magia magia! ho visto allora oh 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 bravo oh oh ma allora facciamogli allora un'altra magia adesso la panca di Gabriella estrarrò degli oggetti ok? sei pronta? è grosso è grosso solo con la forza del pensiero sei pronta? o o voilà metto e un applauso a Bago e lo facciamo bravi allora Allora, tutti i cucinieri sono con Raimondo, pronti per un'altra magia? Pronta? Un metro, quindi i geometri come dicevo, gli architetti, i sardi sono con Francesca e Sergio, altra magia? Disinfettante, con la parte di le mani, scaduto. Allora, i mercatori sono con Giuseppe e Leo, è andata a riprendermi. Quanti ne manca? Magia! Chi è questo? Doppio, vero? Allora, gli attori sono con Valentina e Marla. Come? Marco, Marco, Marco. Pronti? Oh! Gordino, quindi le gare all'albero. Allora, gli ampeggiatori sono con Luca e il sottacche. Sono là, insomma, da qualche parte, non mi ricordo più. Attenzione! Aspetta, aspetta, che si è mangiato l'ultimo... Un attimo! Allora, io mi chiede la faballe! Prova vedere l'albero lì, dai! È stato un ideo, non c'è. E lo fa! Oh! Questo! Per mettervi l'ombretto, il make-up, il borde e il liner. Il liner! Il famosissimo liner! Il liner, quindi... La scocetta divisa. Gli insegnatori con Jeanne e Lia. E Lia. E... Oh! Sei! È Jeanne! Alessio, ancora! Chi è Jeanne? Oh, si scherziamo! Venga, come si fa? Quello con la radio. Eh, sai, Coriglio, Lillo e Al... Oh! Oh, si scherziamo! 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 Oh, si scherziamo!